O riaprite le naia di o restituite le chiavi. Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri segue la linea dura nella vicenda che vede ormai chiuse da fine ottobre scorso le piscine della riviera pescarese di proprietà della regione Abruzzo e affidate in via provvisoria ad un'associazione temporanea di imprese, l'ATI Naia di 2020, composta da quattro realtà sportive del territorio, Pinguino, Pescara Pallannuoto, Club Aquatico e Gollum. La fumata bianca non è arrivata nemmeno dalla riunione di ieri, aggiornata questo giovedì, nel mentre in corso la diffida al gestore, che non ha riaperto l'8 di febbraio all'attività agonistica come era stato concordato. Oltre al danno sportivo c'è anche e soprattutto quello occupazionale, con i sindacati sempre più preoccupati per il futuro delle maestranze, 12 lavoratori e 37 collaboratori che operano all'interno del centro sportivo. E' stata proprio la regione Abruzzo a guida centrodestra nel luglio del 2019 ad affidare a LATI la gestione provvisoria che scadrà a luglio 2021, dopo il fallimento della gestione Serraiocco ed in attesa del bando definitivo per l'affidamento degli impianti sportivi. L'assessore Liris auspica un accordo in extremis, ma l'ipotesi più probabile è che la gestione delle piscine Lenaia di giovedì torni in capo a regione Abruzzo. Non è interesse né compito della regione di rimere le controverse all'interno di un'associazione temporanea d'impresa che ha soltanto il dovere di aprire il complesso Lenaia. Abbiamo dato tempo fino a giovedì, quindi altri due giorni, perché l'associazione temporanea d'impresa si esprima con una univoca definizione di quella che deve essere la programmazione futura, con un'unica posizione in assenza della quale saremo costretti come regione a riprenderci le chiavi e a rescindere il contratto proprio per consentire a questo gioiello della regione Abruzzo di riprendere a funzionare.